Il discorso è questo, giochiamo male, però ha trovato un tipo di gioco, un modulo, un'impostazione di gioco, così come la vogliamo chiamare, nella quale indubbiamente, oggettivamente, è una squadra questa che rischia pochissimo. Magari ha messo un terzino all'arte, magari ha messo un mediano a terzino, come dici tu. Le soluzioni non è che erano tantissime, perché comunque a sinistra... Allora, adesso io un po' di provo. A sinistra che avresti messo? Metti che Conca si rispettava il suo ruolo, no? Guarda che potevano giocare tutti nel loro ruolo. Io di tutta la formazione che ha fatto cambio un giocatore, uno solo. Scappini. Allora, o metto Scappini insieme a Perna e metto Rigoni a sinistra, oppure metto Mauri a sinistra. Che però non gode più della fiducia. Metto Mauri a sinistra, rimane 4-4-1-1. Ma si è a posto di Cardona, dici? Cardona lo metto in mediana, Del Grosso lo metto a fare terzino a destra, Bertoli il terzino a sinistro, Conca se fa la alla destra, Mauri di qua, Dideo Cardona, i centrali sono gli stessi, Rigoni perna. Ho cambiato un giocatore, ma tutti quelli altri, tutti, tutti, giocano nel loro ruolo naturale. Però al di là del fatto che la squadra ha giocato male... Al di là del fatto che la squadra ha giocato male, il risultato lo ha portato a casa, rischiando anche poco. Allora, Gigi, chi vince sempre ragione, ci mancherebbe altro. L'avversario era poca cosa. Posso far notare che l'avversario era una squadra di morti e che noi giocavamo con cinque giocatori fuori ruolo? Cinque, no uno. Cioè, già avevamo fatto notare la formazione di Gallipoli, che secondo me era una formazione per non far giocare. Ma è anche questa... Questa poteva anche non giocare con l'opzione Mauri, o per Nei, che dir si voglia. Ma il fatto che cinque giocatori fuori ruolo, secondo me, è un abominio calcistico. Vinci perché gli altri sono ridicoli, noi comunque siamo più forti. Adesso dire bravo non me la sento. C'è da dire però che forse le squadre avversari... Scusa, ho detto qualche miniatura a te. Correggimi, se io dico delle gastronomere... Io sono dell'opinione che comunque la squadra avversaria, pur debole, scarsa che fosse, forse ha fatto ancora più brutta figura perché siamo riusciti a giocatori. Ha fatto un tiro a porta in 90 punti. Eh, dico perché abbiamo giocato in un modo... Cioè, perché la Tannana ha giocato con un tipo di modo, lo ripeto, in impostazione di gioco, massima copertura, che però impedisce agli avversari comunque di tirare in bordo. C'era un gioco molto stretto. Perché anche con Langiano, al di là del risultato del primo 3-0... Sì, ma anche Langiano... No, no, ma lasciamo perdere il 3-0. Però anche lì Langiano non ha tirato quasi mai. Ma anche squadra buona, a voglia si hanno tirato. Eh, vabbè, però da quando c'è Baldassarri mi pare che abbiamo rischiato molto meno. Allora, abbiamo rischiato meno. E c'è da analizzare... Allora, appunto, questo fatto... Anche in trasferta, eh? C'è da analizzare. Perché con Gallipoli, fino al ventesimo della ripresa, io l'ho sentita tutta per... Eh, ti devo dire che... Benissimo. Lasciamo perdere che forse l'avremmo dovuto segnare noi, prima di loro. Ma il Gallipoli l'ha fatto pochissimo. Siamo, d'accordo. Cioè, non Givion. Se questo... L'ha fatto pochissimo, perché ve lo aspetta? Cusa Rosario, ha portato una difesa che era un gol a brodo. Adesso è la minione del girone. Anche senza Sartoro abbiamo giocato bene in difesa. Anche senza Sartoro. Qualche cosa l'ha fatto. Il modulo è lo stesso, perché è sempre 4-4-1-1. Non è che ha fatto 5-0. Per cui analizziamolo questo fatto. Perché allora, o era un sommaro colossale Giorgini, o qualche cosa deve essere successo. Io te ne butto la una. Giorgini si è trovato, nelle famose 5 sconfitte, a giocare con i signori come Fedeli, Pedotti, Bizzarri. Non li voleva, eh? Questi sono errori che si fanno. Però Sartoro era infortunato, del grosso era infortunato. Li avrebbe fatti giocare, probabilmente. Di Dio non era ancora disponibile. Ma di Dio è stato rintegrato appena andato via? Appena andato via lui, subito lui ce l'ha avuto disponibile per Baldassare. Sono stati comprati Bertoli e Borghetti, che sono due buoni. Più avanti, però. Più avanti, no, Gennale. Comunque secondo me, poi non torniamo a parlare di Giorgini. No, dico, se Dio dice che è successo per questa squadra, il modulo è lo stesso. È successo che l'allenatore... Ho detto, ragazzi, qui prima cosa cerchiamo di non prendere gol. E già quello è un passo avanti. Perché con Giorgini non si era capito manco questo. Nel senso, i gol a un certo punto non si facevano più. C'hava tolto scappini e se ne prendevano tanti. E poi non c'era, secondo me, quel carattere combattivo, quella grinta, quella voglia di comunque di portare a casa il risultato che si è vista da quando è venuto Baldassare. Su questo non c'è dubbio, Giorgini era un allenatore in pensione. La realtà è che, adesso lo devo ripetere per la centesima volta, Giorgini, che è stato un bravo allenatore, perché Giorgini è stato un bravo allenatore in queste categorie, a me che mi importa. Comunque resta il fatto che è stato un allenatore... Lo dico come amico, a me comunque gli amici non mi interessa. No, sto dicendo amici. Tanto c'ho il garage. Dicevo? C'ho il garage. Dicevo? Ah, ce l'hai, no? Dicevo. E poi casomai, intanto se ne faranno tanti nuovi di posti auto, a Terni, che il Gigi ne potrà comprare. Ecco. Dicevo? I migliori... Scusa, eh. Scusa. Dicevo. Non me sto a capire. No, volevo dirti. Giorgini è stato fra i migliori allenatori di questa categoria. Resta il fatto che è venuto a Terni e ti è motivato. Tanto è vero, tanto è vero, che la maggior parte delle... In Giambatte. Eh, in Giambatte. E in Vestaglia. Tanto è vero, che la maggior parte del lavoro, lo faceva Marcattili, che ci voleva... Io non l'ho visti mai, però me l'hanno detto. A parte che qualche momento l'ho visto. Però mi dicono che non l'ho visti mai. Ma l'ho raccontato però molto bene che Marcattili era molto più motivato e ha fatto il suo lavoro. Purtroppo però, il lavoro principale, lo deve fare l'allenatore, diciamo... Principale. L'allenatore principale. Non l'allenatore in seconda. Perché poi è chiaro, un conto è il carisma di Giorgini, è un conto Marcattili che si affacciava adesso. Con Baldassarri non è cambiata la preparazione tattica. Anzi, anzi, secondo me, secondo me c'è una più Giorgini. Però con Baldassarri è cambiato il fatto che questo è sceso un esponeto molto più motivato. Gli ha detto ragazzi, qui bisogna ci salviamo, se no poi c'è... Ma no, non è più che motivati, secondo me, si sono guardati in faccia e hanno capito, secondo me, che cosa stava succedendo in questa squadra. Poi Baldassarri non ha creato il campo. C'era una tendenza a seguire Giorgini e c'erano i Giorginiani. E adesso ci sono più Baldassarriani che Giorginiani. È semplice. Però Baldassarri ha fatto di tutto perché questi... Con estreme educazioni e coloro che offendono l'allenatore sul terreno di allenamento devono capire che queste cose non si devono fare. I giocatori che ancora offendono Baldassarri e che gli dicono a denti stretti quelle cose che hanno detto e continuano a dire non lo devono dire. A che ti riferisci? Beh, vediamo una guerreata. Ma a Rosario sono parecchie volte. A tu, io non ho detto niente. No, sono curioso. Ma lo sai anche l'altra volta ce l'avevo anch'io. Ragazzi, io seguo la Ternana in casa e fuori casa da 5-8 anni. Lui dice sempre questa cosa. l'unica gara che ho saltato io in Serie B sarà l'Italia Ternana poi le ho fatte tutte. Quindi, dopo domenica che fai io ero a Gallipoli. Lui dice sempre questa. Anche a due... Anche sabbio abbiamo visto qualche... Vabbè, ma bisogna rispettare il lavoro degli altri. Comunque sia stato fatto nel bene e nel male con gli errori, con le pecche, ma bisogna rispettare. Certo. Questo è alla base... Sì, scordiamo che è giusto Venni e quello stava sulla... Chi? Se doveva fare il discorsetto. Comunque Rosario dice questa cosa che mi ricordo... Che non era bello, non era bella sta cosa o no? Qualche mattedì fa, non so, era forse un paio di mesi fa, che eravamo che Rosario ripeteva quello del rispetto da parte della squadra nei confronti dell'allenatore. Evidentemente, da osservatore, professionista, attento, qualche cosa avrà capito, evidentemente. E qui ci ricolleghiamo in un certo qual modo al discorso che facevo io, che dietro i risultati di un organico detto di qualità che non arrivano c'è la mancanza di professionalità. Cioè, quello che ti rabbacca oppure, come diceva prima, si lega al cuino. Voi sapete, no? Meglio di me, ci stanno giocatori con i piedi migliori che fanno sempre la C1 e la B e giocatori con i piedi peggiori che fanno sempre la Serie A perché ci mettono più grinta, più professionalità, fanno meglio gli allenamenti e vanno meno spasso da pazzaglia col passeggino. E chiudo. E voglio prendere un altro discorso. Finché va col passeggino. Vabbè, ma col passeggino è la moglie che fa shopping. Vabbè, che c'è morta a noi e c'è morta a noi. Ma noi siamo liberali. E c'è morta a noi. No, siamo un momento di rischio. Qualcuno che ci ha due lire la spende per questa sfittica economia. Stiamo per diventare liberali. Però, io voglio dire una cosa. Dico, a Terni, che secondo me dobbiamo renderci conto, la categoria che è giusta per una città come Terni. In linea di massima è la serie B. Va bene. In serie B, quando ci siamo andati, l'ultima volta ci siamo rimasti un po' di anni, ci siamo andati perché c'era un imprenditore che si chiamava all'epoca Carini che ha sviluppato a Terni dei business.